Musica Oltre 20 milioni di euro per i GAL siciliani, il governo musumeci ha approvato in giunta le disposizioni attuative per il lancio del bando Bonu Sicilia CLLD. Aperto è 17 GAL e gruppi di azione locale siciliana per un valore di 20,4 milioni di euro. Si tratta di fondi approvati dal governo regionale con la riprogrammazione delle risorse destinate alle azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo e del PORFERS 2014-2020, indirizzate sotto forma di contributo a fondo perduto alle micro imprese operanti nei territori dei GAL colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Questa riprogrammazione, dice l'assessore all'attività produttiva regionale Mimmo Turano, è frutto della condivisione con i GAL di una strategia che ha come obiettivo primario il sostegno alle imprese danneggiate dalle restrizioni e dalle chiusure determinate da pandemia e ripartenza. I fondi su base territoriale andranno a supportare le imprese nei territori dei 17 GAL, tra cui anche nati i BLEI. Possono partecipare al bando le micro imprese che abbiano meno di 10 dipendenti o un fatturato anno non superiore a 2 milioni di euro, con sede legale e operativo in uno dei comuni compresi fra quelli ammissibili per singolo GAL. Intervento da parte del Presidente del Circolo Aretusa Fratelli d'Italia, del Circolo Adreiu e del Circolo Bartolo Implantini sulla raccolta differenziata e soprattutto sulla chiusura del centro raccolta comunale della Targia Siracusa. Dopo la chiusura di quello di Via Elorina, dal 1 aprile la città di Siracusa, dicono, resta senza centro di raccolta fissa, con gravi disagi per tutti i cittadini e con particolare penalizzazione per l'ex frazione di Cassibile, Belvedere e le zone balneari già raggiunte da un servizio non soddisfacente. Si parla di scadenza della AWA, autorizzazione unica ambientale, della necessità di una conferenza di servizi, di pareri di ARPE e Comune e di un decreto che il Libero Consorzio dei Comuni dovrebbe emettere dalla successiva autorizzazione del SUAP. La differenziata comunque a Siracusa, dicono, dal Fratelli d'Italia, non funziona e non da ora. Ci sono parti della città che non sono ancora pienamente raggiunti dal servizio o zono che sono afflitte dalla piaga delle discariche abusive. Ci saremmo aspettati una campagna informativa adeguata che avesse convinto anche i più scettici sull'opportunità della raccolta differenziata. Non ci resta che affidarci ai CCR mobili, non per tutti i tipi di rifiuti, e alla tempestività di intervento del Commissario del Libero Consorzio, con l'augurio che sappa sollecitare tutti gli enti coinvolti ad una rapida definizione dei passaggi burocratici e alla rapida riapertura dell'unico CCR. Tre bus turistici aperti da oggi al servizio dello sviluppo turistico sostenibile dei comuni dell'aria interna della provincia di Siracusa, Bucchieri, Buscemi, Canicattini, Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzo Lacraide, Solarino e Sortino, in collegamento con due importanti città, Unesco, Siracusa e Noto. Sono i tre bus Iveco della Sitcar di 28 posti ciascuni acquistati dal comune di Canicattini in Bagni, in qualità di capofile e finanziati sulla linea 3144 del FERS 2007-2013, per i servizi di trasporto della rete museale della coalizione dei comuni Tapsos-Megara-Iblon-Tucles, del PIS-12 coordinati dall'Agenzia di Sviluppo degli Iblei e presieduta da Paola Menta, che attraverso bando pubblico sono stati affidati alla società Eurotour Servizi di Russo Santo di Melilli. A presentare il servizio e le tratte autorizzate dalla regione siciliana, che comprendono i vari comuni, con Siracusa e Noto, è stato a Canicattini il presidente dell'Agenzia, Paola Menta, insieme ai sindaci e agli amministratori dei comuni dell'intera area presente, e insieme alla rete museale Iblei, dall'Essociazione delle Guide Turistiche della provincia, alla rete di imprese che hanno scommesso sulla promozione e la crescita turistica di un territorio unico come quello degli Iblei. L'ASPE di Siracusa aderisce come ogni anno alla giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, indetta per il 2 aprile, con una serie di iniziative che si svolgeranno nella sede della neuropsichiatria di infanzia e dell'adolescenza di Viale Pipoli. Per tutta la settimana la palazzina sarà illuminata di blu e venerdì prima aprile alle ore 16, nei locali del centro di diagnosi precoce intensivo dei disturbi dello spettro autistico, si svolgerà una manifestazione gioiosa in collaborazione con l'Istituto Scolastico Gaggini di Siracusa e le associazioni dei genitori, con attività pittoriche ed esibizioni artistiche che animeranno il pomeriggio. Sarà una giornata di riflessione, dichiara il direttore Paola Iacono, ma anche una giornata di festa con attività intrattenimento. I disturbi dello spettro autistico sono considerati un insieme di manifestazioni che variano ampiamente in termini di patologie e gravità. Il centro di diagnosi svolge la fondamentale attività di diagnosi precoce e trattamento intensivo, unitamente all'intensa attività di ricerca scientifica e formazione. Secondo i dati rilevati dal centro, nascono ogni anno circa 100 bambini nella provincia con questa patologia, con un'incidenza maggiore negli ultimi anni. Il 2 aprile è giornata sulla consapevolezza dell'autismo, ma non solo un'intera giornata in cui comunque il colore blu di una luce illuminerà il Palazzo del Senato a Siracusa. Il Coprodis abbraccia l'iniziativa dell'ANX Siracusa, associazione aderente, e chiedente l'illuminazione del Palazzo del Senato per la giornata internazionale sulla consapevolezza dell'autismo. Ma si va oltre e si discute sul tema, con il gesto simbolico di accendere la luce blu, ma anche attraverso Siracusa città educativa, attraverso la lettura per toccare note di argomenti che altrimenti sembrerebbero distanti dal mondo vattato dei bambini, o ancora sotto l'invito del liceo classico Gargallo di Siracusa, attraverso la partecipazione dei delegati di un racconto a più voci, dove si portano esperienze dirette di persone con autismo, che incontra nel mondo di tutti i giorni, nella scuola, nel lavoro, nello sport, nelle pratiche inclusive della realtà siracusana. Il Coprodis ha proposto la costituzione della consulta della disabilità al nuovo assessore Concetta Carbone, ma ancora le tematiche che si proporranno sul suo tavolo sono i progetti di vita delle persone con disabilità previsti dall'articolo 14 della legge 328 del 2000, il dopo di noi durante noi e le aspettative dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Torna la scuola della parola nella chiesa cattedrale di Siracusa. Sabato 2 aprile alle ore 20, Monsignor Francesco Lomanto incontrerà i giovani della diocesi. Tema dell'incontro promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiosi e San Metodio dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile sarà i discepoli di Emmaus. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha impedito che negli ultimi anni si svolgesse l'iniziativa, diventato un appuntamento fisso nel calendario diocesano. Adesso l'arcivescova ha voluto riprendere il momento di preghiera nell'ultimo sabato del periodo quaresimale. Un momento di preghiera e condivisione in preparazione alla Pasqua ha evidenziato Don Salvo Spataro, direttore dell'Istituto San Metodio, che l'arcivescovo ci offrirà sul cammino dei discepoli di Emmaus. Nel sinodo che la Chiesa sta vivendo è fondamentale il camminare insieme. L'incontro naturalmente aperto a tutti si soffermerà sull'immagine dei discepoli di Emmaus che uscendo da Gerusalemme lungo la strada incontrano Gesù risorto senza riconoscerlo subito. Solo dopo aver ascoltato le sue parole e aver spezzato il pane con lui, i due discepoli lo riconoscono. Il cammino sinodale ci invita all'ascolto, alla luce delle scritture, dei fedeli nelle parrocchie, dei gruppi e delle aggregazioni. Grazie a tutti.